Salve a tutti da StefanoGT e ben ritrovati in questo nuovissimo video! Nel video di oggi parlerò di quanto costa mantenere una Golf 7R da 300 CV in Italia. Avete capito benissimo, parlerò di tutti i costi di gestione e manutenzione di questa fantastica Hot Hatch di casa Volkswagen. Ma prima di iniziare questo video voglio chiedervi ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube StefanoGT cliccando qui sotto in basso il pulsante iscriviti. È gratuito e perché non farlo? Iniziamo subito dal costo di acquisto. La Golf 7R è stata presentata a partire dal 2014 e ha subito un restyling nel 2017. Le differenze sono sull'estetica del paraurti anteriore e posteriore, cavalli 300 sulla versione pre-restyling e 310 sulla versione restyling. I fari, completamente differenti sia anteriori che posteriori. Il cambio, un 6 marce a bagno d'olio DQ 250 sulla versione pre-restyling e un DQ 381 da 7 marce a bagno d'olio sulla versione restyling. Prezzo di listino circa 50 mila euro. Ovviamente ora in listino c'è la Golf 8R e quindi se vogliamo acquistarla dobbiamo acquistarla soltanto usata. Per quanto riguarda i modelli dell'usato, andando a vedere su dei market, il modello 2014 con circa 100 mila chilometri costa circa 20 mila euro. Per arrivare fino a un modello fine pre-restyling inizio 2017 ha circa 25 barra 26 mila euro, oppure un modello restyling 310 del 2017 dai 26 ai 32 mila euro per versioni praticamente anno 2020 con circa 20 mila chilometri. Vi ricordo che il passaggio di proprietà su quest'auto costa circa 1200 euro. Quindi una volta acquistata la nostra Golf 7R dovremo pagare un bel passaggio di proprietà. Ma una volta acquistata la nostra Golf 7R iniziamo subito con le prime spese, ovvero il bollo e l'assicurazione. 300 e 310 cavalli in Italia ci fanno pagare purtroppo il superbollo. Quindi si superano i 250 cavalli e si paga circa il bollo all'acidi circa 700 euro e poi il superbollo. Andremo a pagare circa 1.400 barra 1.500 euro per la versione 300 e 310 cavalli di bollo e superbollo. Una vera batosta per chi vuole acquistare quest'auto. Per fortuna su auto come queste del 2014 quindi che hanno più di cinque anni dalla prima immatricolazione in Italia, quindi non dalla prima immatricolazione all'estero, andremo a pagare un superbollo ridotto e all'incirca andremo a spendere dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione circa 1.100 euro, quindi già molto meglio. Una volta pagato il bollo ovviamente dovremo pagare l'assicurazione. Come sempre l'assicurazione ha dei costi molto variabili in base all'età del conducente, classe di merito e comune di appartenenza. All'incirca andrò a spendere circa 800 euro di solo RC auto per quest'auto nella provincia di Latina e vi dico che quest'auto va assicurata almeno per il furto e per l'incendio. Non vi dico anche atti vandalici eventuali danni da eventi atmosferici perché su un'auto che costava circa 50.000 euro vanno fatti. Per quanto riguarda furto, incendio e servizi accessori andremo a spendere altri 500 euro e quindi un totale di RC più servizi 1.300 euro annui. Una volta assicurato il nostro veicolo, per andarci in giro ovviamente andrà ammessa la benzina. Quest'auto nell'utilizzo extraurbano ha il suo miglior consumo, ovvero circa 14 chilometri con un litro, a gas costante 90 barra 100 chilometri orari. In autostrada consuma un po' di più perché ha una sesta abbastanza corta e consuma circa 11 barra 12 chilometri con un litro. Per quanto riguarda il consumo urbano l'auto consuma abbastanza, andremo a consumare circa 9 barra 10 chilometri con un litro. Utilizzo sportivo 5 chilometri con un litro e a full gas 2.5 chilometri con un litro. Quindi consuma abbastanza quando sfruttiamo tutti a 300 cavalli. Ma ipotizzando un consumo misto di 10 chilometri con un litro, con un pieno di circa 50 litri, andremo a coprire un'autonomia di circa 500 chilometri, anche 450 dai. Ipotizzando una percorrenza annua di 10.000 chilometri si andranno a spendere circa 1.500 euro in solo carburante. Quindi i nostri 1.500 euro annui vanno spesi di sola benzina. Ovviamente abbiamo effettuato tutti i costi di gestione e per quanto riguarda la manutenzione iniziamo subito. Su quest'auto è prevista una manutenzione con il classico tagliando ordinario che prevede sostituzione olio e filtro olio ogni 25.000 chilometri. Io vi consiglio di ravvicinarlo a 15 barra 20.000 per auto totalmente originali, mentre per auto leggermente elaborate anche 10.000 chilometri. Quindi andremo a spendere circa 250 euro per la manutenzione ordinaria che prevede quindi sostituzione olio e filtro olio, ovviamente ricambi originali. Per quanto riguarda il filtro dell'aria, se avete un filtro dell'aria originale ogni 25.000 chilometri, oppure se avete un filtro aftermarket potrete benissimo lavarlo ogni 10.000 chilometri. Passiamo poi alla manutenzione del cambio. Il 95% delle Golf 7R e 7.5R sono uscite dalla fabbrica con il cambio DSG. Quindi andremo a effettuare una manutenzione al cambio che prevede la sostituzione di cartuccia filtro e filtro olio cambio ogni 50.000 chilometri. Ovviamente su auto elaborate si ravvicina un po' la sostituzione e si spendono circa 200 euro. Queste sono le spese relative alla manutenzione ordinaria. Passiamo poi alla manutenzione straordinaria. In primis partiamo dalle candele. Molti non sanno che le candele sono l'elemento fondamentale per l'ottimo rendimento di questi motori turbo-benzina ad alte prestazioni. Un set di candele originali costa circa 150 euro, sostituzione ogni 30.000 chilometri se l'auto è originale e ogni 10.000 se l'auto è elaborata e vi dico che sono 150 euro ben spesi. Passiamo poi. La batteria, ovviamente una batteria dovrebbe durare circa 5 anni. Per una batteria con sistema start e stop si vanno a spendere circa 200 barra 250 euro. Costa abbastanza. Passiamo poi alla manutenzione relativa all'impianto frenante. La sostituzione quindi di pastiglie e dischi dipende tutto dal vostro stile di guida. Chi ha un utilizzo più tranquillo e cauto dell'auto avrà una durata maggiore di pastiglie e dischi freno. Chi ha un utilizzo più sportivo e schiaccia di più il freno ovviamente si consumeranno prima. Andremo a spendere circa 250 euro per la sostituzione delle pastiglie anteriori e circa 100 euro per quelle posteriori. Ovviamente i dischi anteriori dovrebbero durare circa due set di pastiglie anteriori e due set di pastiglie posteriori. Si spendono circa 500 euro per quelli anteriori e 300 per quelli posteriori. Passiamo poi alla manutenzione relativa agli pneumatici. Come sempre dipende tanto dallo stile di guida del guidatore. Potete trovare molte Golf 7R con cerchio da 19 e lì la sostituzione degli pneumatici costa leggermente in più. Si andranno a spendere circa 800 euro per un set di pneumatici da 19 che monta una 235 35 19 e un centinaio di euro in meno per pneumatici con cerchio da 18. Sempre sulla manutenzione straordinaria riguarda la trasmissione del sistema 4Motion. Quest'auto quindi è occupaggiata da un differenziale di tipo Aldex e va effettuata una manutenzione straordinaria che prevede la sostituzione dell'olio differenziale. Lì si andranno a spendere circa 100 euro e vi consiglio di sostituirlo se effettuate abbastanza launch control. Altrimenti le frizioni dell'Aldex si rovineranno facilmente. E con questo abbiamo parlato di tutti i costi di gestione e mantenimento di questa Golf 7R in Italia. Come detto prima il costo di acquisto se l'acquistiamo nuova prima serie o un 2020 proprio in fine serie del 7 e mezzo R è circa 1500 euro di bollo circa 1500 euro di assicurazione annui un costo circa di 1500 euro relativo al consumo in carburante per la percorrenza di circa 10.000 chilometri annui e i vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinione al riguardo. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.